Salve e buongiorno a tutti. Mi presento, sono un pasticciere che ha deciso, anche per curiosità, di essere un corsista del maestro chef pasticciere Andrea. Niente, volevo solo dirvi che il corso è veramente molto aggiornato, molto semplice, molto pratico. Io colgo l'occasione per qualcuno che fosse ancora titubante per acquistare questo corso che è molto valido. Io essendo pasticciere da una vita posso dire che attraverso piccoli dettagli che magari io non sapevo perché nel corso degli anni le tecniche cambiano, cambiano le materie prime, cambiano le attrezzature, come le ricette sono sempre valide, bisogna solo un attimino adeguarsi ai tempi e alle nuove tecniche. Posso dirvi che lui col suo modo di spiegare farà sì che ognuno di voi possa eseguire dei dolci e perfetti. Niente, ringrazio sempre lo chef e vi assicuro che il corso è veramente valido.